e veniamo alla chiusura del convegno. Appare evidente sul tavolo che ci sono economie di sistema e che ci sono interessi a rendere questo sistema resiliente ad attacchi cyber e nel prossimo futuro la cyber security non sarà più la cenerentola del gruppo, lasciatemi passare questo termine, ma sarà il cardine attorno al quale si svilupperanno progetto e sviluppo del servizio in ambito navale. Io mi auguro di poterci rivedere a breve, tra qualche anno, per rifare il punto della situazione e vedere come il quadro complessivo, normativo, progettuale, fattivo nella pratica quotidiana sia evoluto e si sia aggiornato. Ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e ringrazio anche le persone che non si trovano citate in questo momento, ma che negli ultimi due mesi, spalla spalla con me, hanno lavorato alla realizzazione di questo evento. E infine ringrazio i partecipanti per l'interesse e la pazienza che hanno dimostrato nel seguirci fino a quest'ora. Ringrazio tutti e vi auguro. Grazie anche a te per aver moderato questo panel in maniera così efficace. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, anche da parte mia. Ciao. Arrivederci e grazie. Buonasera, grazie anche da parte mia. A questo punto concludo l'evento che mi fa piacere sottolineare. In chat sta raccogliendo numerosi apprezzamenti e quindi tutti coloro i quali hanno espresso apprezzamenti si ritengano ringraziati collettivamente. Buona serata a tutti. Buona serata e alla prossima. Grazie ingegnere del supporto. Buona serata. Buonasera e grazie a voi.